Si chiude una settimana molto importante per Rondine, anche il convegno di stamani mattina, rivolto in fondo anche ai giovani, ha la sua importanza. Sì, il prefetto ci ha invitato perché il tema della legalità è un tema che non può stare a cuore a chiunque si occupa di educazione, sia gli studenti internazionali che i giovani del quarto anno hanno questo tema proprio di essere cittadini, direi un po' modello, quindi il tema della legalità lo devono interiorizzare, alcuni di loro anzi avranno dei progetti proprio specifici su questo della legalità, quindi abbiamo accolto volentieri l'invito del prefetto. L'amico parla in rappresentanza della delegazione presente qui alla prefettura, perché siete qui e soprattutto come vi sentite in questo momento? Buongiorno, mi sento qui molto, diciamo che questo convegno per me è molto interessante, perché prima cosa che io studio, prima di Rondine voglio dire che io studio cooperazione per lo sviluppo, che noi dall'università sappiamo che per sviluppo sostenibile dovrebbe essere la legalità, e la legalità dovrebbe essere una cosa precisa, anche una cosa principale per lo sviluppo sostenibile. Senza legalità non si può sviluppare, sarebbe crescita, non sviluppo, e noi sappiamo che crescita non è la stessa cosa come sviluppo. E per me, come studente di cooperazione per lo sviluppo, questo convegno fa una parte migliore. Però come studente di Rondine, per noi anche questo convegno è molto importante. Carinissimo.